Oggi siamo nei pressi della Berlinale, c'è il sole, come potete vedere dal mio abbigliamento fa caldo e ora vi mostro tutto quello che c'è intorno a me. Alle mie spalle potete vedere l'ingresso dove si comprano i biglietti. Dicono che la Berlinale sia uno dei pochi festival al mondo, forse l'unico, veramente accessibile a tutto il pubblico. La parte dei biglietti può essere comprata 4 giorni prima del film online, per il resto basta mettersi in cuota un'oretta prima e acquistare i biglietti. Questa, alle mie spalle, invece è l'ingresso degli attori che vengono portati dalle macchine private. Quindi in questi pochi metri ci c'è la possibilità di avere un fotografo, di fare fotografie da parte dei fotografi. Ogni fotografo si porta da casa una scaletta. Vedete, questi sono gli autisti che si preparano, adesso ce ne sono due, poi si arriverà addirittura a 8-10 macchine, tutte in posizione. E io mi sono messo su una delle scalette qua, volevo dire che oggi è il giorno di Alba Raffacher e del film italiano La Vergine Giurata. Quindi speriamo di trovare Alba. Magari Alba se è andata in giro qua a picchiare su un caffè, magari ci troviamo Alba dall'altra parte. Io sono pronto a gridare Alba! Alba! Ecco ragazzi, quell'è Alba, che culo! È arrivata. Alba! Alba! Alba è scappata via. Cioè, mentre ero qui sulla scaletta a dirvi che oggi era il giorno di Alba, ho spento la telecamera e c'era dietro Alba. Abbiamo visto di sfuggire, di spalle, di scappata via. È un motocorso Alba, eh? Eh, va bene, niente. Vediamo che succede ancora qua oggi. Il giorno di oggi ci sono ancora alcuni, abbiamo tutti partecipato, ma non ci sono ancora alcuni. Ma non ci sono ancora alcuni, ma non ci sono ancora alcuni. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.